In occasione della giornata nazionale degli alberi del 21 novembre e della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l'assessorato all'ambiente e alle pari opportunità del Comune di Lecco, in collaborazione con la cooperativa ECO 86 e con il progetto Piedibus Lecco, promuove sia la valorizzazione del ruolo fondamentale svolto dagli spazi verdi urbani dal punto di vista ambientale e socioculturale, sia la sensibilizzazione nei confronti di una problematica, quella della violenza sulle donne, tutt'altro che risolta. Due le iniziative lanciate per le quali l'assessore all'ambiente e alle pari opportunità Renata Zuffi chiede la collaborazione dei cittadini, delle scuole, delle associazioni e delle famiglie. Da un lato è già possibile prenotare una delle 200 piante a mettere a dimora rese disponibili per l'occasione, dall'altro dal 25 novembre al 2 dicembre verrà creato un simbolico percorso di alberi illuminati di rosso, elemento cromatico da anni simbolo della lotta alla violenza sulle donne, un percorso per ricordare, nella giornata internazionale contro la violenza nei loro confronti, che il prendersi cura della natura come delle persone misura la cifra della nostra umanità. Infine, dal 21 novembre al 1 dicembre, sulla facciata del Palazzo Comunale sarà esposto uno striscione recante, un messaggio di sensibilizzazione. Gli istituti comprensivi di Lecco, le associazioni nelle famiglie che faranno richiesta entro il 31 dicembre a boscodiffusocchiocciolacomune.lecco.it potranno ricevere l'esemplare di cui prendersi cura dopo il 28 febbraio, secondo le modalità organizzative che verranno rese disponibili sul sito www.eco86.it. Tutti coloro i quali riceveranno una delle 200 piante da accudire potranno scattarle una fotografia e pubblicarla sulla pagina facebook o instagram con l'hashtag boscodiffusolecco.